ah no, di qua, di qua, dritto, dritto, dritto devi andare di là giusto? si, devi andare a subito ehi, puoi andare anche di qua vieni di qua adesso, Dario Dario e roscas occhio guarda il pezzo che vieni su Dario, se andavi giù di là invece facevi quel torrente guardavi il torrente e venivi su di là quello che facevamo una volta guarda il fresco però occhio ciao 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 Sì, sì, sì. Perda! Arca pizzo! quel punto qua una volta avevo spaccato la sella, la sella? si era solo, man mano la sta jumper lì cos'è che era? mi ero alzato su per bere l'acqua, mica è andata giù la sella porto bene, ho fatto tutto non taglio qua, c'è uno sfreso, tutto è male della madonna m***a cosa hai fatto? aia porca troia, ti ho preso dentro? c'è una pinzana sti sassu, ma tam via come è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.